Autostrade per l'Italia ha comunicato che sulla A26 Genova Voltri-Gravelona-Toce, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 luglio, con orario 22.6, sarà chiuso il tratto compreso tra Gemme-Romagnano-Sesia e l'allacciamento con la A4 Torino-Trieste, verso Genova. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione... News 24, la tua nuova TV locale.